Avvocato per colla. Ciao, tesoro. Sono Vanda. Vanda. Sono in una stanza proprio sopra te. Ti interessa sapere il numero? Sì, anzi, sono... Vado... Vado subito. Certo, onorevole, subito. Sono stata portata qui da... Una forza magica. Sai quelle cose così? Poi, da un giorno all'altro, io parto. Hai capito bene? Capisco, capisco. La cosa è urgente. Stia tranquillo. Pianta subito tutto e raggiungimi al 220. Bene, bene.